Musica Giunge al suo primo grande obiettivo il progetto artistico degli Highlights, gruppo formato da Giovanni Di Giacomo al sax, Genna alla chitarra, Alfonso Donadio alla batteria e Attilio Zanchi al contrabbasso. È stato da poco pubblicato infatti il primo CD della band Jets e la presentazione ufficiale avvenuta giovedì pomeriggio a Vittoria, presso il Chiostro delle Grazie, nell'ambito del Vittoria Jets Festival. Leader della band, il giovane sassofonista comisano Giovanni Di Giacomo, che con questo lavoro discografico arriva alla sua piena maturazione artistica. Oggi siamo molto felici per aver finalmente presentato il nostro lavoro discografico dal titolo Highlights, con fantastici musicisti Genna Rocoten, Alfonso Donadio e Attilio Zanchi, che è uno dei papà del jazz italiano e tra le figure più importanti del contrabbasso a livello italiano ed europeo. Nel disco ci sono anche ospiti Tino Tracanna, sassofonista e direttore del Dipartimento del Conservatorio Jazz di Milano e Oscar De Barba, docente di pianoforte al Conservatorio di Milano. Siamo onorati di aver potuto presentare questo disco nella mia terra, a Vittoria, nel festival organizzato dal mio amico Francesco Capiso e dal papà Angelo Capiso, e poi aveva avuto tutta questa gente, insomma ci ha reso veramente pieni di gioia e ci siamo sentiti onorati. Grazie a tutti i nostri amici.